Altra notte di maltempo, quella appena trascorsa in Sicilia, i venti di burrasca sud orientale associate a precipitazioni di forte intensità imperversano sull'isola e secondo le previsioni proseguiranno per l'intera giornata. Il Dipartimento regionale di protezione civile ha diramato lo stato di preallerta, la zona maggiormente colpita la costa tirrenica dove sono previste anche possibili mareggiate. Diverse in provincia di Agrigento sono state richiamate giunte alla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente non si segnalano danni di particolare intensità. Nel centro storico di Agrigento e precisamente nella via Duomo il vento ha scoperchiato un vetusto immobile disabitato. Disagi invece per il traffico veicolare in transito lungo la strada statale 115 dove nei pressi di Licata l'arteria è rimasta chiusa per alcune ore a causa di un incidente che ha coinvolto un auto articolato. Tanti invece sono stati gli interventi di liberazione di rami dalla strada effettuati dai Vigili del Fuoco nel versante montano della provincia, specie nella zona di Santa Elisabetta. A Favara a parte qualche problema alla rete elettrica non ci sarebbero stati particolari danni.